Benvenuti sul Timora Gossip TV. Prima di iniziare ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere costantemente aggiornato. Un gesto semplice ma per noi significativo. Grazie. Sabato 2 marzo 2024 una nuova puntata di C'è posta per te andata in onda su canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. L'episodio si è concentrato sulla toccante vicenda di Giuseppe un padre desideroso di chiedere perdono al figlio Manuel riconoscendo i gravi errori commessi e il suo passato da genitore poco esemplare. Tuttavia Manuel ha trovato difficile perdonare il padre a causa di una ferita profonda lasciata da un rapporto conflittuale. La situazione è peggiorata ulteriormente a seguito di una lite e nonostante gli sforzi di Maria per ristabilire l'armonia. Alla fine Manuel ha optato per non aprire la busta durante la trasmissione. L'attenzione degli spettatori su Twitter e tutti i social è stata catturata dal fatto che Manuel indossasse un guanto grigio alla mano destra. Le ipotesi degli utenti sono state variegate. Alcuni suggeriscono un tatuaggio appena fatto, altre pensano che il guanto possa essere una misura per una dermatite o un eczema, mentre alcuni ipotizzano addirittura un atto di autolesionismo, suscitando curiosità e dibattito. Nessuna di tutte queste però è stata confermata. E tu cosa pensi? Come mai il ragazzo indossava il guanto? Se ti va scrivilo nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella.